ciao a tutte e a tutti bentornati sul canale se già mi conoscete ben arrivati se è la prima volta che capitate di qua come avete visto dal titolo del video una recensione di questi filati che ho acquistato oggi che mi sono stati regalati cioè mi hanno per il compleanno mi hanno fatto un buono conoscendomi sanno che non c'era regalo migliore mi hanno fatto un buono e sono andato in merceria a fare questo acquisto anche perché era apparecchio che non compravo non portavo a casa filati e quindi ci stava tutto quindi sono andato in città in questa merceria che già conosco e ho acquistato questi filati partiamo con questo che è quello che mi ha colpito subito perché ne avevo sentito parlare ma non avevo mai toccato con con mano questo filato si chiama yak della marca lang lang yarns è un filato composto dal 50 per cento di lana e 50 per cento di yak è un filato molto morbido che non pizzica i gommitoli da 50 grammi per cento trenta metri quindi un bel metraggio ed è un filato bello leggero diciamo non è un filato pesante cioè nonostante sia caldo e invernale non è un filato molto pesante come peso ecco anche se non è sottilissimo comunque è un filato leggero quindi ti da quell'idea di un capo caldo ma leggero indicano come lavorazione i ferri quattro e mezzo cinque poi anche qui sempre a seconda della nostra mano e del progetto che vogliamo fare io con questo ci realizzerò un maglioncino ho fatto un campioncino con i ferri numero cinque perché il quattro e mezzo credo se l'ho impegnato su un altro lavoro e devo dire che non è male neanche col cinque però credo che quando lo lavorerò lo userò il quattro e mezzo perché così mi sembra un pochino troppo morbido comunque farò un'altra prova e vedrò sul momento quale scegliere mi dispiace che il colore in videocamera non renda perché sembra un colore molto spento invece è un bel colore senape con dei puntini di grigio non è proprio quasi un melange neanche a questi queste piccole parti di grigio che gli dà questa particolarità però sì in realtà non è come si vede in videocamera è molto più più vivo come colore va un po fuori dai miei canoni perché non è dei miei preferiti il giallo ma questo non è proprio un giallo è un colore molto particolare che tra tutti quelli che c'erano nell'espositore mi ha colpito subito e ho detto quello ora farò il campione completo lo laverò lo metterò ad asciugare vedrò come si comporta dopo il lavaggio se cede se si stringe o se rimane uguale non dovrebbe cedere mi ha detto che è un filato che tiene bene mi piace davvero tanto ovviamente non sono filati super economici come quelli che ho recensito finora però ogni tanto toglierci uno sfizio per farci una coccola ci sta e visto che ci mettiamo anche tanto tempo nel fare i nostri lavori se gli diamo un valore aggiunto con un filato di ottima qualità è ancora meglio ecco nulla mi è piaciuto davvero tanto ci sono tanti bei colori quindi se vi se vi piace poi magari andate su internet o se andate in merceria potete vedere la cartella dei colori e vedete meglio come sono questi in realtà questo colore ho comprato la quantità che mi serve per fare il maglioncino e poi vi farò vedere a lavoro ultimato cosa cosa ne uscirà oppure se farò un progetto che non ho già fatto magari fare un tutorial l'altro filato che ho acquistato è questo che si chiama Fenty tweed di Rowan questo filato lo conoscevo già l'avevo già toccato l'avevo già visto di questa marca a me piacciono tantissimo i colori perché ha dei colori meravigliosi c'è un verde un lilla che sono qualcosa di spettacolare è un filato che io metto tra le lane secche quindi non è un filato di quelli morbidissimi infatti pizzica quindi se avete il problema che non sopportate la lana questo vi pizzica o perlomeno da fare un capo che non vada a pelle infatti io questo avrei voluto fare un maglioncino con questo però poi non l'avrei usato perché purtroppo mi pizzica però a me piace tantissimo questo filato io dalla prima volta che l'ho visto me ne ero innamorato già in video poi guardando su internet poi quando l'avevo toccato anche perché toccandolo è davvero soffice come gomitolo però la texture è un pochino ruvida non è un filato sapete come i maglioni quelli norvegesi quelli con gli intarsi ecco molto adatto a fare lavori con intarsi con stranded lavorazione stranded quindi è un filato tweed infatti a questi in questo si nota bene in questo colore tutti questi puntini colorati di un altro colore che danno un bellissimo effetto ho scelto questi tre colori per farci una sciarpa perché qualcosa con questo filato me la voglio fare e devo quando sono io sono così quando una cosa mi piace anche se poi mi pizzica la uso lo stesso magari migrato però voglio fare un capo un accessorio con questo filato la composizione di questo filato è 50 per cento lana 25 per cento di alpaca e 25 per cento di viscosa quindi un'ottima fibra un ottimo materiale in 50 grammi abbiamo 175 metri quindi un bel metraggio è un filato sottile ma non sottilissimo loro indicano un tre mezzo quattro io ho fatto un campioncino con i feri numero quattro e direi che per la mia mano è l'ideale da usare con con il da lavorare con i feri numero quattro anche qui avendo questo effetto con i puntini che qua si vedono poco perché proprio piccolo e anche della camera non si vede bene perché non so come mai stasera ho fatto già altri video la sera però stasera la luce non mi rende i colori a tutti questi puntini che anche una semplice lavorazione a maglia rasata la maglia legaccio è comunque qualcosa di carino poi vedrò come fare questa sciarpa se farla a coste o appunto brioche o qualcosa del genere poi vedrò anche qui vediamo se sarà un progetto che mi piace da farne un tutorial questo affilato mi piace molto anche se ne pizzica però quando a me come vi dicevo prima una cosa mi piace passo sopra al difetto del pizzicolore ecco ho preso questi tre colori ce c'erano altri come dicevo bellissimi ne ha una cartera colori molto vasta non ho provato a lavorare all'uncinetto perché questo quello di prima ne non ci provo neanche perché per me è già troppo grosso per l'uncinetto perché a me per lavorare all'uncinetto piacciono i filati molto sottili adesso facciamo una prova con l'uncinetto numero quattro lo facciamo in diretta così vediamo come è la lavorazione all'uncinetto allora intanto vi dico comunque anche ai ferri si lavora benissimo è un filato che si lavora molto bene è un filato un pochino pelosetto quindi viene anche una bella tessitura del lavoro che facciamo lo vedo adatto a fare sia lavorazioni semplici come maglia rasata maglia legaccio ma anche trecce o motivi un pochino più lavorati perché comunque la definizione del punto è buona non so come si comporta con l'uso col tempo però avevo già sentito delle recensioni e ne avevo sentito parlare molto bene quindi vado un po' scomodo perché sono in piedi non è una posizione comodissima per lavorare direi comunque che anche all'uncinetto si lavora molto bene e nonostante sia un filato abbastanza secco comunque dopo lavorato il nostro lavoro è comunque bello morbido quindi direi che anche all'uncinetto è adatto ad essere lavorato anche all'uncinetto prima con un po' di filo facciamo anche l'ultimo punto così facciamo un altro giro per vedere l'effetto anche se io comunque sono sempre dell'avviso che la miglior resa i filati li abbiano a maglia certo che un filato così sottile lavorato a maglia se uno deve fare un maglioncino con il numero 4 magari il lavoro risulta un pochino più lungo però avremo una cosa molto bella ecco questo incagliato arriviamo alla fine devo dire che mi piace molto che si lavora molto bene sia ai ferri che all'uncinetto anche per fare degli scialli con questo filato ecco qua abbiamo una lavorazione all'uncinetto anche se i punti sono un po' larghi perché secondo me con l'uncinetto qua questo filato a differenza del sole cioè a volte si usa l'uncinetto un po' più grande rispetto ai ferri questa volta userai anche un 3 e mezzo poi dipende comunque il lavoro viene bello morbido ha una bella trama però mi piace di più lavorato a maglia vi faccio vedere vicino questa maglia questo l'uncinetto preferisco la lavorazione a maglia comunque si lavora se a uno piace preferisce lavorare l'uncinetto si lavora molto bene anche l'uncinetto è un bel effetto io spero di avervi fatto una recensione esaustiva di questi due filati poi magari più avanti vi farò sapere anche vi farò vedere magari su facebook una foto qui cosa ho realizzato con questi filati spero che vi siano piaciuti a me piacciono tantissimo e ora vado a continuare un pochino con i lavori che sono un po indietro vi auguro una buona serata una buona notte un buongiorno a seconda di quanto riguarderete questo video se vi fa piacere iscrivervi cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanellina per far sì che si siete avvisati quando carico un nuovo video a proposito non ve l'ho detto devo dire all'inizio del video ma ve lo dico ora perché me ne ero scordato siamo arrivati abbiamo siamo arrivati a 3000 iscritti abbiamo anche superato quindi sono felicissimo non avrei mai pensato che in poco più di un anno avrei raggiunto questo traguardo vi ringrazio tutti quanti vi abbraccio uno a uno per seguirmi sempre e per apprezzare quello che faccio vi saluto e vi aspetto a un prossimo video ciao ciao